bella rega qua è savix che vi parla bentornati in questo nuovo video e benvenuti se siete nuovi nel canale oggi vi porto il metodo per fare il car to car senza bug solo per one e ps4 ragazzi quindi iniziamo subito un amico che ci dà una mano l'abbonamento a ls raga ci servirà lo yacht ci servirà il cosatta con all'interno lo sparrow a questo punto ci serviranno un veicolo da moddare e il veicolo da cui prendere le modifiche dove vi pare ragazzi e una volta che abbiamo ciò ci servirà anche il motorcycle club ragazzi e come ultimo veicolo usato tramite motorcycle club dovremo avere usato l'oppressor una volta che abbiamo usato l'oppressor e avete poi questa situazione quindi richiedi moto con l'oppressor vicino siete sicuri che avete usato l'oppressor come ultimo veicolo a questo punto non ci resta altro che diventare presidenti raga e chiamarci il veicolo da cui prendere le modifiche una volta che avete chiamato il veicolo da cui prendere le modifiche raga semplicemente dovrete andare ad avviare uno sprint quindi aprite il vostro menu interazione o touchpad ragazzi andate su autoraduno e quando siete su autoraduno cliccate su sprint per far partire lo sprint bisogna che tutte e due i personaggi tutti i due pg ragazzi avete il veicolo attivo all'interno perché se non avete il veicolo attivo all'interno dell'autoraduno non partirà lo sprint accettate il messaggio aspettate in basso a destra che parte il timing e raga una volta che abbiamo lo sprint attivo quindi siamo nell'attività cosa facciamo semplicemente quando siamo spawnati dovremo cliccare raga il tasto triangolo o y per fare un respawn una volta fatto il respawn e saremo spawnati dobbiamo dirigerci ragazzi in questo punto dove c'è il canale una volta che siamo qua dovremmo aprire il nostro menu interazione e una volta che abbiamo il menu interazione aperto andiamo su servizi andiamo su cosacta ragazzi e a questo punto dovremmo richiederci lo sparrow adesso andiamo sul nostro motorcycle club clicchiamo una volta a o x e quando siamo nell'acqua lo dobbiamo spammare ragazzi in modo tale da rimanere buggati nella schermata nera se vi fa rispaunare con la macchina dovete riprovarci è semplicissimo a questo punto partecipate su anawak comunque sia su qualcuno in mira differente raga quando siete nella schermata nera accettate il primo messaggio e rifiutate il secondo adesso start raga andiamo su online criminal starter pack tutti i santi dopodiché andiamo su proprietà andiamo sul garage qua in basso andiamo sui link qua in alto e in questa schermata clicchiamo triangolo y non ci saremo sbaggati raga a questo punto saliamo sull'oppressor una volta che siamo sull'oppressor cosa facciamo alziamo lo sparrow in volo apriamo il nostro menu interazione andremo a chiamare tramite il motorcycle club una qualsiasi moto che non sia la rat bike ragazzi a questo punto ci sbagheremo la visuale e cosa facciamo andiamo direttamente raga verso il nostro yacht una volta che siamo dallo yacht apriamo il telefono cerchiamo il capitano e una volta che abbiamo chiamato il capitano dovremo richiederci il veicolo che vogliamo moddare ragazzi una volta che abbiamo richiesto il veicolo che vogliamo moddare come vedete nella minimappa si sostituirà con la moto che abbiamo chiamato prima col motorcycle club e a questo punto cosa possiamo fare semplicemente deriderci verso il los santos più vicino e distruggere lo sparrow in modo da rispawnare ragazzi dentro il veicolo e quindi sbada bam ragazzi car to car no bug per one e ps4 funziona bene molto bene per ps4 ragazzi per one ci sarà il problema di anawak dovrete usare un secondo me è meglio se usate un terzo amico raga che vi fa da anawak che sta in mira diversa o se avete una seconda console ce la sbattete se no è un po' un problema quindi mi lascio in descrizione comunque sia l'altro metodo per farlo senza il criminal eccetera eccetera bisogna abbagarsi all'arena ed è un pochettino magari più lungo ma funziona da dio e su tutte le versioni gta quindi ragazzi a questo punto lasciate un like lasciate un commento supportate savix supportate il canale iscrivetevi e alla prossima bella regà iscriviti al canale